ciao buongiorno a tutti bentornati ben arrivati se la prima volta che siete qui su glitters and soul io sono monica video spacchettamento di un pacco che mi è arrivato a sorpresa un giorno mi ha suonato il corriere non aspettavo niente non avevo ordinato niente mi è arrivato questo pacco che adesso vi vado a mostrare tra l'altro carinissimo perché decorato con questi sticker natalizi non so se riuscite a vederli anche sopra ce ne sono ma sopra ci sono gli indirizzi quindi lo vi mostro per la privacy e questo pacco mi è stato mandato come regalo da una ragazza che io ho conosciuto l'anno scorso qui su youtube ci seguiamo su instagram adesso ci sentiamo qualche volta anche su whatsapp so che lei non vuole che io dica chi è però lei sa e quindi la ringrazio ancora tanto ovviamente l'ho già ringraziata e in privato però veramente è stata carinissima io ho compiuto gli anni 16 ottobre lei l'ha saputo in ritardo le dispiaceva non aver pensato a un regalino per me poi ci stiamo avvicinando al natale e quindi ha preso l'occasione per farmi il regalo di natale compleanno però veramente ci ha messo dentro troppe troppe cose e io sono estremamente contenta quindi grazie ancora e andiamo subito a spacchettarlo vedere che cosa c'è dentro allora per prima cosa vi mostro questa bellissima pochettina di smashbox eccola qui alla scritta smashbox in rilievo è un tessuto semirigido cerniera fucsia e l'interno è rivestita così tutta nera di queste non se ne hanno mai abbastanza perché basta doversi allontanare da casa per qualche giorno e la pochette ci serve sempre insomma c'è sempre tanto da mettere dentro poi ho trovato dentro il pacco questo souffle corpo di nivea ai fiori di ciliegio scusate che metto gli occhiali è una crema olio con olio di jojoba delicata fragranza e preziosa e preziosi perle d'olio non unge sensazione di pelle vellutata non l'ho ancora provata di questo marchio di nivea ho già utilizzato creme corpo quindi so che sono molto buone ne avevo usata una quest'estate almonoi e cocco se non sbaglio adesso questa la devo ancora aprire qui la apro con voi per annusarla ecco qui si presenta così è bella piena buono il profumo buonissimo mamma mia che buono molto ricca davvero molto ricca un profumo pazzesco che sa di ciliegia un pochino sì fiori di ciliegia molto delicato ed è molto molto si sente che c'è l'olio dentro però si assorbe anche super velocemente questa qui deve lasciare la pelle proprio proprio vellutatissima adesso la chiudiamo e andiamo avanti ho trovato dentro questo pacco un regalo nel regalo nel senso che c'era un altro pacchettino che adesso vado il pacchettino adesso la carta l'ho buttata via però vi vado a mostrare che cosa c'era dentro dentro c'era niente po po di meno che una palettina componibile di clio makeup my first love e quattro cialdine adesso io le ho già messe dentro vi farò vedere confezionate singolarmente da mettere dentro alla palettina poi ho ricevuto questo mascara per sopracciglia con fibre se sentite dei rumori perché mio figlio sta parlando con i suoi amici tramite telefono e questo qui è appunto un mascara per sopracciglia che contiene delle fibre anche quello l'ho provato che mi piace sulle labbra mi vedete ho messo il coco love sempre di clio adesso vi mostro il pack è un rossetto cremoso e un lip balm e questo è il colore eccolo qua quindi è un malva scuro a me piace tantissimo sono i colori che amo e poi mi piacciono i rossetti cremosi quindi questo veramente bello magari in sovrimpressione poi vi lascio vi lascio anche il numero perché non lo conosco non ho guardato poi dentro al pacco c'era questa lozione tonica all'acido glicolico di pixi quindi ha una leggera funzione esfoliante perché voi sapete che l'acido glicolico va leggermente ad esfoliare a rinnovare proprio la lo strato superficiale della della pelle non avevo mai provato niente di pixi ed era un marchio che avrei sempre voluto provare ma poi alla fine non l'ho mai non ho mai ordinato niente sono molto contenta di poter ordinare e di poter provare questo prodottino qui dopo di che c'era della equilibra love nature quindi un prodotto quasi esclusivamente di origine naturale col 40 per cento di aloe vera che è una crema viso questa qui già mia figlia quando l'ha vista mi ha detto mamma questa la devo usare anch'io va bene eccola qui una cosa che mi intriga tantissimo è questo trattamento urto rimpolpante viso infiale è un trattamento che dura sette giorni e contiene acido ialuronico puro adesso vado a dirvi che cosa c'è dentro allora contiene acido ialuronico puro che grazie all'esclusiva formula con acido ialuronico a quattro pesi molecolari aiuta a riattivare la rigenerazione cutanea rimpolpare i tessuti e idratando così la pelle su quattro diversi livelli epidermici perché voi sapete che l'acido ialuronico è a vari pesi molecolari più piccolo il peso molecolare più penetra all'interno quindi una pelle giovane per una pelle giovane sufficiente anche un alto peso molecolare si ferma alla superficie tanto comunque c'è una produzione endogena del corpo di acido ialuronico nel viso mentre una pelle più ag tipo la mia ha bisogno di stimolare l'acido ialuronico di prenderlo dall'esterno quindi i pesi molecolari più piccoli vanno a penetrare negli strati più interni dell'epidermide cosa c'è scritto allora aiuta a rimpolpare i tessuti idrata la pelle riempie le rughe rimodelle contorni del viso è della mac e non vedo l'ora di testarlo e poi di farvi la review poi vediamo un'altra cosa che mi piace tantissimo questo non ce l'ho ancora provata ma so già che mi piace questo lavaviso oleoso rice cream di ivrocher fatalità in questi giorni abbiamo finito il lavaviso di idra vegetal sempre di riverocher e quindi sicuramente utilizzeremo questo è ancora chiuso perché stavo finendo l'altro ma non vedo l'ora di provarlo perché ne avevo sentito parlare benissimo una super chicca di cui sono strafelice è questa questo profumo di monotem tuberose allora la ragazza che mi ha fatto il regalo sa che a me piace tantissimo la nota della tuberosa nei profumi perché l'ho detto varie volte anche nei miei video e ha pensato bene di regalarmi tuberose che io ho già spruzzato perché non potevo resistere ed è buonissimo ovviamente tuberosa ha un profumo pazzesco è veramente buono e poi su di me che l'ho provato due giorni fa persiste è molto persistente e mi piace proprio l'effetto che fa sulla mia pelle perché voi sapete che non hai detto che i profumi siano uguali su tutte le pelli a me piace molto come mi sta non l'avevo mai hanno usato su di me l'avevo solo sentito sugli altri e devo dire che sono contentissima questo è un barattolo da 100 ml tra l'altro guardate la bottiglietta che carina e anche il pack esterno quindi questo è proprio un regalo che mi ha fatto stra stra felice anche perché io scarseggio sempre di profumi adesso passiamo ai campioncini perché mi ha letteralmente riempito la scatola di un sacco di cose carinissime allora vi faccio vedere questi campioncini di fondotinta di Yves Saint Laurent sono queste bustine adesso questa è tutta sporca perché io l'ho messo oggi e mi piace tantissimo questo qui è quello col finish luminoso poi qua dentro sempre tutto sporco perché si è impastricchiato tutto c'è anche quello col finish matte quindi vedete sono due di luminosi e uno col finish matte ho voluto provare quello luminoso adesso vi dico anche di che fondo si tratta allora quello luminoso si chiama touche eclette le taint e quello ma si chiama all hours foundation cioè lunga durata hanno fattore di protezione quello matte 20 quello luminoso fattore di protezione 19 e io ho utilizzato quello che c'era qui che è la colorazione sono è perfetta che è la colorazione la colorazione sand e devo dire che si è proprio fuso con la carnagione mia il che non è così semplice perché io sono sempre in lotta con i fondotinta perché faccio sempre dei gran pasticci quando li compro poi un'altra cosa che mi intriga molto è questo campioncino di lancome questo prodotto innovativo si chiama nuovo advanced genifique siero di attivazione di giovinezza arricchito con sette frazioni di pre probiotici per una pelle che recupera più velocemente nuova scienza del micro brio del microbioma è questa piccola bustina qui il campioncino e poi c'è questa brochure che spiega appunto la come è stato concepito dice dopo sette giorni di utilizzo la pelle appare più radiosa e giovane dopo un solo flacone la pelle recupera più velocemente i principali segni dell'invecchiamento come luminosità linee sotto l'emogeneità compattezza appaiono migliorati quindi veramente da da provare anche una marea di campioncini dell'erbolario avete presente che l'erbolario fa i sol cofanetti e dentro c'è veramente di tutto di tutto e di più secondo me ce n'è qualcuno in più allora c'è crema perfumata per il corpo alla dahlia questa non la conosco questo invece accordo ebano shampoo dolce che a me piace tantissimo crema detergente da massaggio per il viso con estratto di foglie di argam spero si veda latte di pulizia per il viso al cetriolo e alla mamelide crema profumata per il corpo tra i ciliegi poi c'è struccante alle stensine all'estratto meristematico che non ho idea cosa cosa sia questo estratto ma rimuove delicatamente il macchiaggio di occhi viso e labbra quindi lo proverò per struccarmi stasera ovviamente c'è solo il riflesso ma comunque fidatevi poi crema viso tonificante all'olio di jojoba burri di karité e mango poi ho una crema solare acceleratrice della bronzatura con olio di jojoba che proverò la prossima primavera siero multiattivo fluido tensore per il viso ad effetto immediato bello questo effetto tensore quindi effetto lifting e il loro acido ialuronico di origine vegetale che conosco perché utilizzava una volta fattore di protezione 20 e da di origine abbiamo anche una un idratante antistress glow quindi un liquido idratante illuminante altri stanti stress di lancor che si chiama idra zen se veramente a fuoco manco a pagarlo poi un correttore di dior forever skin correct colorazione 2n che un copriocchiaie ed è intubito ecco qui il tubicino questo devo ancora provarlo adesso passiamo i campioncini di profumo però ve li faccio vedere sul tavolo altrimenti qui col riflesso non si vede niente allora di campioncini ce ne sono tantissimi vi faccio subito vedere twilly che è veramente uno dei miei profumi preferiti di fatti contiene la tuberosa ed è di armé mi piace tantissimo questo profumo e poi un profumo che ho scoperto da poco addosso a una persona a cui ho sfaccettamente chiesto che profumo fosse è questo di bulgari omnia crystalline davvero davvero buono ispirato allo splendore del cristallo fiore di loto nasci e cremosità del legno di balsa è fantastico questo profumo è elegante discreto ma persistente poi abbiamo di giro in sci spero di aver pronunciato giusto irresistibile questo qui è alla rosa eccolo qua infatti c'è scritto ed è anche questo molto buono un altro profumo e ne ho due qui che a me piace tantissimo è libro di il san loran buonissimo anche questo qui non sto a dirvi le note adesso perché magari noi potremmo vederle in un altro video eventualmente poi di gucci bloom questo qui non l'avevo mai sentito ma mi piace cioè già mi sono innamorata è un fiorito buonissimo poi abbiamo sempre di givenci l'inter di e questo lo conosco mi piace poi abbiamo forever di laura piaggiotti touch d'argent anche questo è molto buono guardate che bella la confezione e qui ci sono tutte le varie note descritte poi un altro che amo stramo è joy di dior buonissimo anche questo qui poi ho trovato sempre in questo mega pacco cocco mademoiselle di chanel pari guardate che bella la confezione fa ecco mi era caduto nettare d'ambra di erbolario che è un burro per il corpo questa è la loro ultima profumazione ed ecco spacchettamento finito spero che i prodotti vi siano siano di vostro gradimento vi siano di ispirazione io vi ringrazio come sempre per aver seguito il video ringrazio ancora chi mi ha spedito questo mega regalo e spero che vi iscriviate al canale mettiate un like se il video vi è piaciuto mi raccomando se attivate la campanellina riceverete le notifiche ogni volta che caricherò un nuovo video io vi mando un bacione grazie ancora per essere stati in mia compagnia ci vediamo al prossimo video